Il nostro, alla fine, è un movimento che ha un progetto chiarissimo, una parola sublime, che vale in senso letterale come rinascimento e in senso storico come il più grande momento della creatività dell'uomo in assoluto, andando da Giotto fino a Galileo, toccando Guicciardini, Machiavelli, toccando ovviamente Michelangelo. Gli altri movimenti che nomi hanno, dei nomi vili che nascondono identità, che non rivendono... Acronimi spesso, acronimi, lettere, dice e basta. Nascondono anche l'essere liberale, socialista, comunista, un lavoro si chiama Forza Italia, sì, carino, ma è un grido, un altro si chiama Partito Democratico, tutti sono democratici, un altro Fratelli d'Italia, salvo i figli unici, va bene per tutti, 5 stelle della menzionale di un albergo di lusso, cosa c'è dentro? Non lo sappiamo. Nel rinascimento c'è dentro tutto quello che serve a dare identità e idee a una scelta, che è una scelta della bellezza, c'è un significato letterale e c'è una storia dentro la quale noi dobbiamo essere orgogliosi di stare.